Amiche ed amici di Cariatinet, buongiorno, benvenuti ad una nuova puntata di Il Fatto, che quest'oggi vi racconterà una storia importante, la storia di Omar Boltolacelli, che in seguito ad un incidente, ecco, cambia la sua vita, vedremo come, subito dopo la sigla. Diciamo paura della mia condizione. Ed eccoci qua, allora intanto saluto l'ospite di oggi, Omar, grazie di essere qui negli studi di Cariatinet, benvenuto appunto in questa trasmissione. Grazie mille, buongiorno a tutti e a tutte. Per me è un onore essere qua, perché da quando sono arrivato mi state facendo veramente sentire come a casa, grazie davvero, siete veramente persone fantastiche. Ecco, Omar, intanto diciamo da dove vieni? Allora, io vengo da Bologna, più precisamente un paesino in provincia di Bologna, che si chiama Sant'Agata Bolognese, e sono venuto qua, diciamo, per guardare e scoprire le bellezze calabresi, quindi, e devo dire che voi qua ne avete veramente tanti, il mare, il posto, è veramente stupendo. Ecco, è ospite negli studi di Cariatinet, voi direte, sì, ma noi conosciamo tante storie anche locali come Omar, però io ci tengo a raccontare la storia di Omar, perché Omar oltre ad aver vissuto questa drammatica vicenda, diciamo impegnato in un'azione sociale molto importante e molto nobile, è questo soprattutto il motivo per cui noi siamo qui oggi. Omar, allora, cominciamo col dire, quando è successo questo brutto fatto che ti ha cambiato radicalmente alla vita? Allora, è successo la notte tra il 28 e il 29 di giugno, erano le 5 e mezza della mattina e io ho subito un incidente sul lavoro, lavoravo e lavoro tuttora... Che lavoro facevi, ecco? Ecco, lavoravo e lavoro tuttora al 118 a Bologna e quella notte eravamo su un'ambulanza, io e il mio autista. Purtroppo, dato la pesantezza delle ore di lavoro, il mio autista si è addormentato alla guida e abbiamo fatto un incidente contro un camion. Il mio autista non si è fatto niente, invece ho riportato un trauma cranico, un trauma toracico dove tutte le costole si sono rotte e due mi hanno perforato un polmone. Ma il danno più grosso è stato al midollo spinale. Che cos'è il midollo spinale? Il midollo spinale è l'unica cosa che nel nostro corpo non si rigenera, non guarisce, quindi una volta rotto rimane rotto e ovviamente dato questa frattura completa del midollo che non è altro che il fascio di nervi che attraversa tutta la schiena e ci aiuta nei movimenti di tutti i giorni, ho perso l'uso delle gambe, quindi il movimento alle gambe. Bene, allora, fermiamoci qui per il momento, andiamo indietro nel tempo, cioè raccontiamo quella che era la tua vita prima dell'incidente. Omar era un ragazzo come tanti altri, aveva un lavoro, aveva degli hobby, aveva una ragazza. Esatto, sì. Raccontaci, ecco, quella che era prima per arrivare al dopo. Sì, diciamo che ero un ragazzo di 27 anni, un ragazzo normalissimo, quindi avevo il mio lavoro che mi piaceva tanto, perché l'ho scelto, nessuno mi ha obbligato a farlo. Avevo i miei amici, avevo i miei hobby, le mie passioni, andavo in moto, ascoltavo la musica, andavo con i colleghi a giocare a calcetto e spesso andavo a giocare a calcio. Ho fatto dei provini anche per squadre importanti come il Bologna, come il Parma e quindi diciamo che ero un ragazzo normalissimo. Avevo una compagna, quindi convivevo con questa compagna e quindi insomma diciamo che si viveva normalmente, tranquillamente la giornata. Quindi si andava al lavoro, si usciva, si tornava a casa e si teneva dietro casa. Quindi si facevano le solite cose, quindi la spesa, le bollette, tutte queste cose qua. Poi, come un fulmine a ciel sereno, è arrivato questo incidente e ha cambiato tutto. Ecco, cosa è cambiato tra il prima e il dopo? Delle amicizie, del lavoro, della compagna o ragazza, cosa ti è rimasto di tutto questo? Beh, diciamo che l'incidente ha cambiato tanto, ma ha cambiato, diciamo, tutto. Ha cambiato anche me, cioè proprio ha cambiato me personalmente in prima persona. Però anche tutto il contorno è cambiato, perché molti amici, che io ritenevo amici, se ne sono andati e la mia ragazza, la mia ragazza mi ha lasciato, perché aveva, diciamo, paura della mia condizione, perché gli hanno detto i medici che io sarei rimasto in carrozzina per tutta la vita, quindi se ne è andata. E diciamo che dopo tutte queste battoste sono cambiato, sono cambiato anch'io. Quindi è stata dura a mandare giù il boccone, ci ho messo un po' di tempo. Però adesso diciamo che nonostante la mia vita è cambiata, vi posso dire che è cambiata in meglio. Non sono matto, tranquilli, però mi accorgo veramente che vedo la vita sotto un altro aspetto. E mi piace questo aspetto, perché ho veramente, ho cominciato a lavorare su me stesso. E il lavorare su se stessi vuol dire, da come la penso io, non aspettare che cambino gli altri, ma devi cambiare te. Devi cambiare te stesso, la tua mentalità, il tuo pensiero. E allora sì che dopo cominci a scoprire una vita nuova, un mondo migliore. Ecomar, come giustifichi oggi, come dire, con più serenità questi allontanamenti che hai avuto all'epoca in un momento difficile? Ma io li giustifico perché magari non eravamo pronti. Non eravamo pronti, non ero pronto io, non era pronta la mia famiglia, non erano pronti i miei amici. Anche perché quando ero al lavoro, quando uscivo con i miei amici, io ero sempre un festaiolo. Quindi cercavo sempre il modo per fare festa, per divertirci, per divertirci tutti insieme. Perché per me il gruppo è veramente importante. E quindi io penso che non eravamo pronti, perché è proprio arrivato come un fulmine a cel sereno all'improvviso questo incidente. Però nonostante il loro allontanamento, io non sono arrabbiato né con loro né con la ragazza che mi ha abbandonato. Anche perché io reputo l'arrabbiatura una perdita di tempo. E il tempo è la cosa più preziosa che noi abbiamo nella vita. E perdere tempo è veramente la cosa più triste. E quindi io l'arrabbiatura la vedo così, come una perdita di tempo. Quindi io non sono arrabbiato con loro, non sono arrabbiato con lei, non sono arrabbiato col mio autista per quello che ha fatto. Anche perché se io mi arrabbiassi tanto, la mia situazione non cambierebbe. E quindi voglio occupare questo tempo per fare cose belle per me, che mi rendono felice. E quindi ecco, io la penso in questo modo qua. Che loro si sono allontanati proprio per questo, perché non erano pronti. Quindi è successo l'incidente, tu entri in ospedale il 29 giugno del 2011. Ecco, se non sbaglio con le date sono un po' un nemico. Quanto tempo ci sei rimasto? Quanto sei riuscito dall'ospedale? Allora, il 29 di giugno, verso le 6, sono stato portato in pronto soccorso all'ospedale maggiore di Bologna. E diciamo che al mio arrivo con l'ambulanza, i medici mi hanno fatto una prima visita. E essendo in condizioni veramente gravi, mi avevano dato due ore di vita. Quindi super giugno mi avevano dato fino alle 8 della mattina. Poi hanno voluto provare lo stesso a operarmi. Sono stato operato in sala operatoria e diciamo che ho subito un intervento di 13 ore alla schiena. Dove hanno cercato di pulirla dai frammenti di ossi, quelli un po' più grossi, mi hanno chiuso e mi hanno mandato in rianimazione. Nella rianimazione dell'ospedale maggiore ci sono stato una settimana. E poi sono stato trasferito a Montecatone. Che cos'è questo ospedale di Montecatone? Montecatone è sui colli imolesi in provincia di Imola e questo ospedale è praticamente addetto a tutte le lesioni midollari. Quindi chi dà incidente, chi dà malattia, chi dà tumori. Chi ha dei problemi al midollo spinale va là in questo ospedale e cercano di metterlo a posto. Io in questo ospedale ci sono stato sei mesi, sei mesi di riabilitazione per poi imparare più cose possibili perché io avevo un obiettivo nella mia vita, cioè quello di uscire da quell'ospedale e riprendere la mia vita in mano. Hai avuto dei momenti di depressione? Ho avuto dei momenti di depressione i primi tempi, sì, perché non è stato facile. E diciamo che i primi momenti di depressione mi sono arrivati quando il primario mi ha dato la conferma che io non avrei più camminato. E lì ero veramente triste, mi ero chiuso in me stesso anche perché avevo tante domande, un punto interrogativo davanti a me, veramente grande. Come sarebbe stata la tua vita? Esatto, come sarebbe stata la mia vita dopo? All'uscita dall'ospedale? Esatto, sì, anche perché, ma anche le domande più stupide io avevo in mente, come per esempio il primario mi ha detto che non avrei più camminato, come faccio a mettermi i pantaloni? Oppure come faccio a mettermi le scarpe? O a guidare la macchina? O a tornare a giocare a calcio? O a guidare la moto? A vivere? Come faccio a vivere adesso? E quindi non avendo queste risposte mi ero chiuso in me stesso. E quindi diciamo che ero diventato serio, triste e non volevo vedere nessuno. Infatti quando dalla terapia intensiva di Montecatone mi hanno trasferito in reparto, la porta della mia camera era sempre chiusa perché non volevo vedere nessuno, perché mi sentivo inutile. E quindi diciamo che ho passato due settimane, anche tre, sì, tre settimane che triste, con la porta sempre chiusa. Non volevo veramente vedere nessuno. Poi diciamo che c'è stata la svolta, la svolta in positivo perché mi sono accorto... Cioè è scattato in te un qualcosa che ti ha detto Omar deve reagire, deve uscire fuori da questo stato. Esatto, sì, è scattato qualcosa in me perché mi stavo accorgendo davvero che stavo perdendo tempo in questo letto e c'era veramente tanto da imparare. E visto che non ho più la parte sotto buona, ma ho la parte superiore che la posso muovere, la posso sfruttare, è giusto sfruttarla. Quindi ho iniziato, la scintilla è stata proprio questa, ho smesso di pensare all'Omar vecchio, all'Omar di prima. Quindi ho smesso di pensare alle cose che non potevo più fare, ma ho iniziato a pensare alle cose che potevo ancora fare. E' una volta uscito dall'ospedale, anche perché mi pare di... mi avevi riferito che in ospedale la ti hanno anche preparato poi, come dire, quella che sarebbe stata la tua vita una volta ritornata a casa. Esatto, sì, infatti io ringrazierò sempre i terapisti e infermieri di Montecatone perché alla fine Montecatone per me è stata una famiglia. E quindi mi hanno insegnato davvero tanto, mi hanno insegnato autonomie, ovvero che cosa fa un ragazzo in carrozzina tutti i giorni. Prima facevo in piedi le cose che mi hanno insegnato, adesso le faccio da seduto. Infatti grazie a loro, da 12 anni che sono in carrozzina, vivo da solo e mando avanti una casa. Quindi lavo, stiro, cucino, faccio da mangiare e ho ripreso a guidare la macchina, ho ripreso il lavoro e ho ripreso a fare tanto sport. Quindi diciamo che ho ripreso proprio la mia vita. Quindi, ecco, vai a casa, naturalmente quando lasci quella tua area di comfort che era l'ambiente ospedaliero, certamente avevi dei timori. Diciamo che adesso ritorno a casa, sarai in grado di fare tutto da solo anche se ti avevano preparato. O eri già, come dire, pronto ad affrontare questa nuova avventura, questa nuova vita di Omar? Beh, diciamo che la paura era sempre tanta. Anche se tutti i giorni i terapisti mi insegnavano cose nuove, mi insegnavano cose belle, e la paura era veramente tanta perché lì a Montecatone eravamo tutti uguali. Quindi io per i corridoi vedevo tutte le persone in carrozzina e quindi diciamo che stavo bene. Cioè, potremmo dire, scusami se ti interrompo, che in quell'ambiente ti sentivi normale? Sicuro, normale. In mezzo a tutte quelle persone. Bravissimo, esatto, esatto. Invece una volta uscito fuori hai avuto qualche volta l'impressione, come dire, di non sentirti uguale agli altri. Diciamo che avevo paura proprio per questo, perché non sapevo come gli altri avrebbero reagito avendomi davanti. E quindi avevo veramente paura uscire a tal punto da chiedere a terapisti e infermieri di tenermi lì ancora. Però loro mi hanno detto, noi non possiamo tenerti qua così tanto tempo, sempre. Sei pronto a poter... Esatto, loro mi hanno detto, vai fuori da qua e vivi la tua vita. Anche perché mi dicevi, non sei voluto tornare nemmeno a casa dei tuoi genitori, sei voluto andare a vivere da soli. Esatto, subito. Hai fatto una scelta, come dire, molto forte, molto precisa e decisa. Sì, 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 anche perché l'ho sempre avuto questo carattere un po' forte e deciso, fin da piccolino, visto che sono cresciuto senza una madre e aiutavo mia nonna a crescere mia sorella. Quindi diciamo che il carattere forte l'ho sempre avuto. E grazie a questo carattere forte che mi ha aiutato a prendere questa decisione, ovvero esco da Montecatone, vado a vivere da solo, perché avevo veramente voglia di vivere, di vivere la mia vita, di fare quello che facevo prima. Anche perché adesso io non vedo tanta differenza da quello che facevo prima adesso. Anzi, adesso faccio molte più cose e sono contento di farne, perché ne faccio davvero tante, molte di più di quelle che facevo prima. Quindi dicevi, a casa, cucine. Esatto, cucino. Diciamo, intanto sei autonomo anche per quanto riguarda i tuoi bisogni personali. Esatto, sì, sono autonomo, io mi lavo. Cucino, fanno la spesa. Esatto. Quindi la macchina, pratichi sport. Che tipo di sport pratichi? Allora, faccio tanti sport. Io iniziai con lo scherma, scherma in carrozzina. Poi dopo ho fatto i campionati italiani giù a Catania e mi sono divertito veramente tanto, è stato veramente bello. Poi una volta tornata a Bologna, ho cambiato l'allenatore, quindi non mi trovavo bene con l'allenatore, nuovo e ho cambiato sport. Ho iniziato a fare le immersioni subacquee. Poi, diciamo che mi sono affacciato al mondo dell'equitazione, quindi vado a cavallo. Ho cominciato con la moto, perché ho ripreso una moto, ho ripreso la moto, l'ho modificata e faccio le gare in pista sia in Italia che all'estero e ultimamente mi sono affacciato anche allo sport dell'handbike, andando a fare delle maratone sia in Italia che all'estero. Ho fatto la maratona di Berlino, ho fatto un'altra maratona il 6 di gennaio al mio paese e quindi diciamo che è stata molto molto bella e lo sport mi ha veramente aiutato. Infatti, quello che dico sempre alle persone è che è importantissimo fare sport, perché a me lo sport mi ha salvato la vita due volte. La prima volta, quando ero piccolino, per superare il trauma dell'abbandono di mia madre. Il secondo, la seconda volta che mi ha aiutato a superare il trauma dell'incidente. Quindi devo ringraziare lo sport, ecco perché ci sono attaccato e veramente io vi invito, vi invito, invito i vostri figli a fare sport, perché è veramente salutare fare sport. Ecco, la tua vita è molto movimentata, le giornate sono abbastanza piene, non hai problemi di noia. Esatto. Quindi Omar, ma a parte questo, ecco, io voglio arrivare adesso a quello che diciamo è la cosa più nobile forse di tutta questa, della drammaticità di questa storia. Poi c'è un aspetto molto nobile che è quello che in pratica tu svolgi tutti i giorni con un'associazione. Perché se Michele, il cameraman che io ringrazio, inquadra un pochettino il logo, Iron Walk è un'associazione fondata da Omar, a quale scopo? Allora, io fondai questa associazione nel 2021, a luglio del 2021, perché? Perché per aiutare altri ragazzi disabili in difficoltà che non sanno dove andare a fare sport o a chi contattare per fare sport, perché come vi ho detto lo sport è veramente importante e soprattutto lo sport deve unire, non deve dividere. Siamo tutti atleti, ok? Quindi chi è in piedi e chi è in carrozzina. Questo è il primo aspetto. Poi dopo questa associazione cura anche i diritti. Ecco, c'è un aspetto educativo. Esatto, perché cura ovviamente i diritti dei disabili, ma soprattutto la cosa che sono veramente felice di fare è fare sicurezza stradale nelle scuole. È 12 anni ormai che vado nelle scuole, da nord a sud Italia, totalmente a gratis, quindi totalmente gratuito questa cosa che faccio. Lo faccio proprio col cuore, che porto la mia storia, che non è poi una storia, ma è la mia vita, la mia vita in mano ai ragazzi. Gli spiego che cosa c'è sulla strada, perché a scuola guida non glielo dicono. E quindi mi piace aprire le loro menti, aprire i loro occhi per evitare che a loro capiti quello che è successo a me. Quindi questo mi inorgoglisce molto, andare nelle scuole, essere chiamato e quindi sono veramente felice, perché sono incontri che mi riempiono il cuore di gioia. Ecco, cosa ti senti dire maggiormente dai ragazzi nelle scuole? Cosa ti chiedono in modo particolare? Ma diciamo che le domande sono svariate. Svariate domande e sono molto curiosi come faccio a guidare la macchina, come faccio a guidare la moto o come vivo la mia giornata. perché loro sono veramente curiosi di sapere come faccio a vestirmi, per esempio, a mettermi i pantaloni o a mettermi le scarpe. Oppure sono curiosi di sapere come faccio a salire, scendere dalla macchina e a guidarla. Quindi queste cose qua sono veramente belle perché nessuno glielo dice. E quindi diciamo che gli faccio entrare nella mia vita e gli faccio capire che la vita non è finita. Cioè, anche se qualcuno subisce un incidente di danni come il mio o come tanti altri, si può sempre ricominciare. Si può sempre ricominciare, si può ricominciare a vivere. Non bisogna sopravvivere perché molta gente sopravvive. Invece bisogna vivere. Questa è la differenza. Ed è questo che faccio capire e che spiego ai ragazzi. Questo è il messaggio che lanci ai ragazzi che si trovano nelle tue condizioni. Sì, perché bisogna vivere. Nonostante abbiamo i nostri problemi, anche i nostri problemi di spostamento, anche per colpa delle infrastrutture, che hanno gradini e non ci sono rampe, non sono accessibili. Però è bello vivere, è bello uscire, è bello farsi una passeggiata per il lungomale. Reagire e vivere. Reagire e vivere, esatto. Reagire per vivere. Sì, sì. Ecco, allora, io voglio far vedere questo libro di Noemi Scagliarini, dal titolo 6-6, la rinascita del sognatore con la prefazione di Federico Moccia. Allora, faccio vedere questo libro. Non ne posso parlare in questa sede perché me l'ha portato e lo ringrazio per l'omaggio Omar. Questo libro racconta in pratica la storia di Omar. Quindi è stato scritto da Noemi Scagliarini, ma con la partecipazione, possiamo dire scritta a quattro mani, perché la storia l'hai raccontata tu, poi il libro, diciamo, è stato scritto da Noemi Scagliarini. Qua dici proprio tutto. Sì, diciamo che qua entro, diciamo, racconto dal giorno prima dell'incidente e poi racconto quello che è avvenuto, l'incidente in sé, racconto tutto, e racconto, diciamo, tutte le fasi, dalla più brutta a quando sono tornato a casa e mi sono ripreso la mia vita. Diciamo che io dico che questo libro qua è nato di notte. Dove si può trovare intanto? Allora, ovviamente su Amazon si può trovare, oppure chi lo vuole in tempi ridotti mi può contattare scrivendomi la via e io glielo spedisco tranquillamente. In ogni modo una copia di questo libro lo avremo disponibile anche nelle cassette di libri liberi che quanto prima verranno installati a Cariati. Omar, siamo alla fine di questo nostro incontro. Ecco, un ultimo tuo messaggio, un ultimo tuo appello a chi ci sta ascoltando, soprattutto a quei ragazzi che oggi non sono nella tua condizione e che debbono fare di tutto per evitare che succedano certi fatti sulla strada. Sì, io volevo mandare un messaggio a tutti sia a ragazzi che hanno subito incidenti o sia a ragazzi che non l'hanno subito. Io penso che non c'è sconfitta nel cuore di chi lotta. Questa è la frase che mi ripeto sempre ogni giorno perché la vita è veramente bella e va vissuta perché dobbiamo vederla come un dono. Ci hanno donato questa vita e noi la dobbiamo sfruttare al 100% tutti i giorni facendo cose che ci rendono felici perché il tempo sprecato è veramente la cosa più brutta nella vita. Quindi pensate, riflettete, fate qualcosa che vi rende felici e ovviamente state attenti alla guida perché la strada non perdona nessuno. Ecco Omar, allora io concludo questo nostro incontro con rinnovarti un altro invito alla presentazione di questo libro che certamente leggerò quindi appena sarà possibile ci incontreremo con Noemi Scagliarini e con te per raccontare ecco in modo, come dire, diverso ma è la stessa storia questo libro Sai sei, la rinascita del sognatore. Io ti ringrazio per la tua disponibilità. Io ringrazio te, ringrazio tutti i cariatesi perché veramente sono, sto veramente bene mi state veramente facendo sentire a casa quindi grazie davvero di cuore. Ecco, ti faccio tanti auguri buona vita ad Omar grazie a tutti voi che ci avete seguito. Grazie a tutti.